Fede e devozione per la Madonna del Carmine a Torre del Greco. In festa la comunità della parrocchia della centralissima piazza Luigi Palomba, che dal 4 luglio si è preparata con momenti di preghiera e celebrazioni fino ad oggi, venerdì 16 luglio, giorno della festa. Alle 10 l'accoglienza è l'incontro dell'Arcivescovo di Napoli, Monsignor Domenico Battaglia, con i fanciulli. E' seguita la solenne celebrazione eucaristica presieduta da sua eminenza con Monsignor Alfonso Punzo, Don Mario Pasqua e Don Franco Rivieggio. Le celebrazioni proseguiranno nel pomeriggio alle 17.30 con la Santa Messa, seguirà alle 18 il Rosario. L'ultima celebrazione, in programma alle ore 20, sarà presieduta da Don Francesco Velotto, vice parroco della parrocchia di Santa Maria a Pugliano di Ercolano. Al termine della celebrazione, con la Buonanotte a Maria, si concluderanno i festeggiamenti. Al prossimo episodio Al prossimo episodio Al prossimo episodio